Una pompa di calore assicura una temperatura confortevole nel vostro edificio, alimentando il calore ambiente nel circuito di riscaldamento. In tal modo la pompa aumenta il livello di temperatura nel vostro impianto di riscaldamento ed eroga ai radiatori o a riscaldamento a pavimento il calore così ottenuto. Le tre possibili fonti di calore sono l'aria, l'acqua di falda e l'energia geotermica. Ma come funziona esattamente? Nel circuito della pompa di calore è presente un refrigerante che evapora durante l'alimentazione del calore ambiente naturale. Questo vapore arriva a un compressore nel quale poi viene compresso. La compressione aumenta la temperatura del vapore. A elevati livelli di temperatura il refrigerante condensa nuovamente e cede l'energia all'acqua di riscaldamento dei radiatori o dell'impianto a pavimento, riscaldando in questo modo i vostri ambienti. Geniale, vero? In seguito il refrigerante viene espanso. Durante tale processo si raffredda. In tal modo il ciclo può ricominciare. Alcune pompe di calore possono persino raffrescare. In questo caso la pompa di calore sottrae il calore dall'aria interna della vostra abitazione attraverso l'impianto di riscaldamento e raffresca o mantiene in temperatura i vostri ambienti. Oval dispone quindi di soluzioni intelligenti, ecologiche e convenienti per garantire una temperatura confortevole nel vostro edificio, in qualunque stagione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.